dodicesimo capitolo di ana definire le relazioni che cosa complicata se non ricordo male dovrebbe esserci un intero episodio di how i met your mother sul definire le relazioni serve non serve perché catalogarci etichettarci quando possiamo semplicemente vivere ciò che accade prenderlo come viene vorrei tanto vederla così davvero forse ariana riesce a vivere in questa specie di limbo ma soltanto pensare di condividere il mio appartamento con il mio ex con cui è finita perché non volevo fare sesso e la mia migliore amica con cui sono andata a letto beh mi fa letteralmente impazzire la mattina dopo la nostra prima volta ariana è di nuovo sparita e ora di nuovo ignora i miei messaggi quando l'altro giorno ho tentato di parlarle per definire la nostra relazione ha detto che doveva studiare mi ha dato un bacio e poi è andata a farsi la doccia non sapevo avessero inventato un modo per studiare anche in doccia ma c'è una cosa che how i met your mother mi ha insegnato davvero nelle relazioni non definite c'è sempre qualcuno che si fa male e spesso non è nessuna delle due persone direttamente coinvolte c'è ne qui chiede luca bruscamente entrando nella nostra camera da letto senza bussare sussulto digitando lettere a caso sul pc su cui stavo lavorando mi sembra un ottimo titolo per la relazione che devo consegnare domani oddio luca che infarto sì ce n'ho qui rispondo portandomi una mano al cuore ultimamente gli sto dando troppi motivi per battere così forte luca annuisce ma qualcosa nel suo modo di fare mi allerta la sua mascella è contratta sembra rigido non riesco a capire ma un campanello d'allarme inizia a suonare piano nella mia testa poi con un cenno veloce del capo indica il letto vuoto di arianna e lei mi volto nella direzione del suo sguardo bella domanda è tutto il giorno che non mi risponde maledizione non so chiedilo a lei rispondo veloce non voglio indagare troppo su questa cosa luca però resta sull'uscio sente i suoi occhi su di me ma cosa vuole credevo che visto che ora siete così intime ne sapessi di più oh oh non mi piace come ha sottolineato la parola intime arianna gliel'ha detto che intendi fingo indifferenza continuando a guardare di fronte a me in realtà non vedo le parole sullo schermo sto praticamente fissando il nulla ho visto tutto cazzo perta ma questo non si fa mai gli affari suoi sta sempre a sbirciare nella nostra stanza mi giro verso di lui sono di ghiaccio non ti riguarda la mia voce trema non so se per l'ansia l'imbarazzo la rabbia o tutti e tre avevi detto che non eri lesbica bugiarda ora è troppo davvero troppo sì cazzo sono una fottuta bugiarda urlo facendolo indietreggiare non se lo aspettava e non me ne frega niente ho mentito sai ma non a te cazzo né a te né ad arianna nessuno di voi due ho mentito a me stessa per anni e mi sono rotta avevo paura di non essere accettata ma l'unica a non accettarmi ero io quindi sì cazzo sono lesbica va bene sono lesbica e con quest'ultimo grido selvaggio balso giù dal letto e lo corridoio però vedo qualcosa che mi fa gelare il sangue nelle vene arianna all'ingresso con ancora il cappotto e lo zaino a metà strada fra la spalla e il pavimento ha sentito ha sentito tutto ciao sussurro ma non credo che della mia bocca siano usciti suoni forse sono un rantolo indistinto sei tornata lei annuisce guardando prima me poi qualcosa alle mie spalle sta guardando luca cazzo che figura di merda io non cosa vi va per cena domanda poggiando lo zaino a terra e togliendosi il cappotto la fisso interrogativa per poi voltarmi verso luca e notare che è confuso quanto me come chiedo avvicinandomi cauta mi sembra di essere un cacciatore che si approccia a una belva feroce più o meno ci siamo primo secondo io voglia di petto di pollo comincia ad armeggiare con le pentole cercando di decidere cosa cucinare pollo va bene risponde luca per poi voltarsi verso di me con un sopracciglio alzato non so quanto te fratello vuoi una mano non so bene cosa dire ma questa mi sembra l'unica cosa sensata lei si volta a guardarci per la prima volta da quando è entrata in questa specie di stato di trance ma no aspettatemi là vi faccio trovare tutto pronto trilla con un sorriso a dir poco melenso il più falso che le abbia mai visto addosso finora poi si volta ricominciando ad armeggiare in cucina mentre fischietta l'ultima canzone di henry io e luca ci scrutiamo dimenticandoci per un secondo della nostra discussione ma che cazzo le prende e ha reagito in quel modo ormai è un'abitudine dopo le lezioni chiara e io ci sediamo nel parco aggiornandoci sulle ultime novità ci piace così è diventata quasi una tradizione e poi devo ammettere che anche se spesso mi fa innervosire è piacevole vederla reagire ai casini della mia vita sì e poi non ne abbiamo più parlato è stata zitta quasi tutta la sera no ma io intendo quello stronzo di luca ha reagito in questo modo perché sei lesbica esagerato fa ancora strano sentirlo dire a voce alta sono lesbica ok si sente ferito perché crede che lo abbia usato come copertura chiara si accende una sigaretta scuotendo la testa che scemi ragazzi a volte non sai quanta gente mi scrive quando metto una storia in cui bacio una ragazza o giusto a volte mi dimentico che chiara è una youtuber o un influencer o quello che è com'è mi chiede confusa aggrottando le sopracciglia dico essere sempre così esposti lavorare sui social com'è soffia un po' di fumo dalla sua bocca prima di rispondermi diverso da quello che credono le persone cioè non so in tanti parlano di doppia vita dicono che ciò che mostri sui social è diverso dalla tua vita reale balle perché perché se metto la foto di un fottuto piatto di pasta poi mangerò quel piatto di pasta non è finzione lo sto solo condividendo annuisco a senso ma a volte le persone fingono quelle persone non hanno capito il senso dei social semplice mi piace pensare che alla gente interessi quello che faccio anche se magari non mi hanno mai incontrato è lo scambio personale e culturale più grande che si sia mai visto è uno strumento pericoloso però cazzo sembro mia mamma o peggio mia nonna se dato in mano a degli idioti sì ma come tutto il resto no è vero sui social puoi mostrare quello che vuoi puoi mettere i filtri che vuoi ma stai solo scegliendo quale parte di te svelare niente di più non c'è finzione è solo un racconto migliore della tua vita a proposito di social tu non mi hai ancora detto niente di selene non me ne sono dimenticata tesoro improvvisamente la mia faccia assume un'espressione ebete che non riesco a nascondere non so perché ma quella ragazza mi ha davvero colpito domani pomeriggio ci rivediamo per un caffè è simpatica dico facendo spallucce ovviamente a chiara non basta spalanca la bocca facendosi più vicina simpatica credi di scamparla così voglio sapere tutto rido mentre chiara comincia a inveirmi contro perché non le ho ancora descritto quanti peli del naso a selene sono proprio fortunata ad averla incontrata sono cinque minuti che aspetto eppure mi sembrano ore dovevamo vederci qui nella caffetteria dell'altra volta è un posto carino tutti i muri sono in pietra di lavagna su cui la gente scrive con gessetti colorati dal soffitto penzolano centinaia di piante e le poltroncine colorate sono accostate a bellissimi tavolini in legno ci piace qui sembra il posto perfetto dove raccontarsi segreti è questo che facciamo alla fine ci riveliamo segreti è in ritardo di dieci minuti non so perché ma la cosa mi mette in ansia non so se ho fatto una buona impressione la prima volta magari non aveva voglia di rivedermi quando mi ha raccontato la storia dei suoi non ho saputo cosa dire cosa puoi dire a una che non sa chi è suo padre beh non che io sia messa meglio in questo momento forse per questo ho accettato è bello per una volta parlare con qualcuno che è sulla tua stessa barca anche se sta affondando ehi so balzo spaventata eccola in piedi di fronte a me selene indossa un parca verde e una tracolla in pelle marrone non l'ho sentita arrivare i capelli rossi sono legati in uno chignon scomposto ha un bell'aspetto come fa ad avere sempre un bell'aspetto ciao la saluto cercando di riprendermi dallo spavento lei si siede buttando a terra la sua tracolla scusa il ritardo ho litigato con mia madre dice ansimando come se avesse appena affrontato una maratona ehi respira che succede ma niente rotture di coglioni mi ha beccato mentre uscivo non la vedevo da settimane voleva che mi fermasse a parlare a grotto le sopracciglia confusa dalla sua affermazione ma tu non vivi con lei purtroppo sono ancora più confusa e come cavolo fai a non vederla per settimane lavora sempre quelle poche volte che torno a casa mi chiudo in camera sono arrivata al limite non vedo l'ora di andarmene via cosa c'è che non va tutto sbotta sorprendendomi è sempre via e quando torna vuole fare la mamma hai mangiato tesoro amore apri la porta se devi fare la mamma fallo sempre non hai detto che tuo padre se n'è andato quando eri piccola sì e allora hai mai pensato che tutto questo dipenda dal fatto che deve mantenerti da sola e non sa come altro fare non voglio farle una paternale anche se sarebbe ironica come cosa ma mi dispiace vedere che lei prenda in questo modo il rapporto con sua madre non la sto rimproverando vorrei solo che vedesse in modo diverso ciò che sua mamma fa per lei ma la cosa non sembra evidente visto che dopo questa mia affermazione mi lancia un'occhiataccia oh merda ho portato alcuni miei disegni cambio di argomento scampato pericolo così magari può aiutarmi a cercare il volto mentre fai le tue ricerche annuisco non ancora pronta a proferire parola dopo la gaff di poco fa a volte non riesco proprio a stare zitta i corpi sono tutti diversi ma il volto è sempre identico occhi azzurri mascella pronunciata naso leggermente a patata mi segui la mia testa va di nuovo su e giù ora comincio a sembrare scema però sì dico con un filo di voce selene mi mostra i suoi disegni che già avevo osservato con attenzione su instagram ma dal vivo è tutta un'altra cosa è molto più evidente la somiglianza tra i vari volti sembra quasi un copia in colla su busti differenti la cura del dettaglio è pazzesca tutti i lineamenti sono perfetti nemmeno una sbavatura ha un talento incredibile mi dispiace che sia sprecato relegata a una pagina instagram seguita da poche centinaia di persone sto per proporle di inventarci un libro da fare insieme quando le suona il cellulare distraendola lo sblocca lanciando un'occhiata veloce alla notifica vedo la sua espressione contrarsi la mascella si rigidisce quasi istantaneamente che succede tutto ok forse una domanda indiscreta ma sono troppo curiosa sì sì risponde sbrigativa continuando a guardare lo schermo non risponde però chi è tua mamma che coraggio di anna nominarla dopo quello che è successo poco fa sei furba eh no dice secca per poi bloccare di nuovo il cellulare e poggiarlo sul tavolo lo schermo rivolto verso il basso lo sto fissando troppo sembra una stolter così ok non ha voglia di parlarmene va bene cioè no non va bene ma l'estorsione è una skill che non fa ancora parte del mio curriculum torno a occuparmi dei disegni moja con la testa da tutt'altra parte non siamo ancora a quel livello allora è un'amica ex amica al solo sguardo lei sta trattenendo un sorriso che sono quasi certa esprima rassegnazione ha notato la mia delusione devo smetterla di comunicare così tanto con il corpo come mai non le rispondi non riesco proprio a trattenere la mia curiosità si è comportata di merda non credo di volerle rispondere non mi va di fare altre domande ma lei scuote la testa e sospira siamo andate a letto lei è sparita e poi mi ha chiesto di non rivederci più ecco tutto fine della storia andiamo avanti ora la mia mascella cade involontariamente sono andate a letto quindi lei è lesbica bisessuale cazzo ma perché devo meravigliarmi ogni volta anche se fosse basta diana capito la voce stridula con cui pronuncio questa parola riesce a perforare gli stessi timpani non era così che doveva andare stupido corpo traditore lei alza il sopracciglio credo che la situazione stia per diventare molto pericolosa problemi scuoto la testa con tutta l'energia che riesco a trovare no assolutamente anche chiara la mia amica è cioè nessun problema ero sorpresa e stronza comunque wow con questa cozzaglia di parole e sensazioni sì che devi aver fatto una bella figura complimenti diana di bene in meglio lei però sembra non fare una piega mi fissa impassibile per qualche secondo poi torna a occuparsi dei suoi disegni hai notato che in questo non imparo mai è quasi mezzanotte non credevo di metterci così tanto con selene non ho avvertito che non sarei tornata per cena e ho notato solo ora i dieci messaggi piuttosto incazzati di arianna corro veloce per le scale del nostro condominio quasi mi manca il fiato perché cazzo abbiamo preso un appartamento al quarto piano senza ascensore arrivo davanti alla porta di casa comincio a frugare nello zaino per trovare le chiavi dove sono dove sono dove eccole le infilo nella toppa e dopo vari tentativi riesco finalmente a entrare la cucina e l'ingresso sono completamente al buio sul tavolo ci sono dei resti di una cena che deve essere stata consumata qualche ora fa mi volto verso il corridoio la porta di luca è chiusa forse non c'è sarà uscito dalla nostra camera da letto arriva una luce fioca invece aria in casa sarà al pc che guarda netflix forse non è arrabbiata non abbiamo più parlato dopo che ha sclerato l'altra sera anzi non ha sclerato non so come definirlo e non capire cosa ci sia fra noi mi distrugge molto più di quanto pensassi entro in camera lei sul mio letto sta smanettando col cellulare la luminosità è al massimo nel buio della stanza diventa quasi accecante non mi guarda ma sono sicura che mi abbia sentito entrare cominciamo male mi siedo ai piedi del letto senza staccarle gli occhi di dosso ehi provo ma la reazione è quella che mi aspettavo esattamente nessuna è entrata nella modalità tu non esisti non so bene cosa ho fatto ma deve essere qualcosa di grosso molto grosso scusa non mi ero accorta fosse tardi riprovo ancora niente continuo a fissare lo schermo come se non le importasse altro mi alzo togliendomi la giacca e cominciando a sistemare le cose nella mia borsa tanto non vuole parlarmi ora hai lasciato whatsapp web aperto sul portatile mi volto verso di lei che continuo a non guardarmi come ti sei vista con selene chi è selene non riesco a capire ha davvero spiato i miei messaggi hai letto i miei messaggi non sapevo dove fossi ero preoccupata stringo i pugni cercando di mantenere la calma ha spiato davvero i miei messaggi come ha potuto non sono cazzi suoi non è nemmeno la mia ragazza non so nemmeno più se è la mia migliore amica stai scherzando la mia voce trema non riesco a controllarmi sto esplodendo di rabbia prima si comporta come se non esistessi e poi come una fidanzata gelosa non hai il diritto di giocare con me in questo modo non ce l'ha chi è selene mi chiede e finalmente alza lo sguardo i miei occhi furenti incontrano i suoi e qualcosa mi colpisce forte dritto allo stomaco agli occhi rossi e gonfi ha pianto perché ha pianto le ho fatto del male non volevo tutta la rabbia sfuma e provo solo un infinito moto di tristezza che ti ho fatto è un'amica rispondo tornando a sedermi vicino a lei non me ne avevi mai parlato non ne ho avuto il tempo l'ho conosciuta su instagram qualche giorno fa mi tradisci eh come prego che significa lascia stare sospira per poi alzarsi dal mio letto e andare verso il suo la seguo tradirla che significa tradirla noi non stiamo insieme queste parole mi escono dalla bocca prima che possa rendermene conto ma sono solo la verità non ne abbiamo mai parlato lei non risponde si è seduta sul suo letto e fissa il muro di fronte noi non stiamo no secco deciso rapido ma non indolore no lo sapevo no perché fa così male no avrei dovuto aspettarmelo ok riesco a dire con un filo di voce e sento il mio stomaco contrarsi al ritmo della quinta sinfonia di beethoven e cosa siamo non lo so cazzo guardami almeno guardami le lacrime iniziano a scendere sul mio volto scivolano sulle guanci ancora arrossate dal freddo e si staccano dal mio corpo cadendo sulla lenzuola sono lacrime silenziose nessun singhiozzo le accompagna cosa significa per te quello che è successo la voce mi trema ma non cedo continuo a fissarla anche se lei mi ignora non credo di aver mai sentito così tanto dolore nella mia vita non risponde sono stanca mi siedo di fronte a lei e la costringo a guardarmi negli occhi era solo per gioco il mio è un sussurro destinato a perdersi tra le gride assordanti che sta lanciando il mio cuore vuole scappare vuole smetterla di soffrire in questo modo a causa mia e sempre sempre colpa mia a riparla finalmente mi dispiace non voglio una relazione e non volevo illuderti credo di essere uscita dal mio corpo è come se vedessi tutto da una prospettiva diversa forse è il mio angelo custode si è ricordato di me e mi ha tirato fuori dalle mie membra doloranti per una volta mi ha tirato via non sento più niente è tutto vuoto vedo rianna alzarsi dal letto e uscire dalla stanza non so dove vada chiude la porta mi lascia sola e di colpo tutto è buio